Lo scultore era Michelangelo Bonarroti e la statua che stava per emergere da quel grande blocco di marmo grezzo era il Davi. Esattamente mezzo millennio fa in un atelier di Tadorno nasceva così quella che è forse oggi la statua più celebre al mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.